Sto firmando l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole secondarie di secondo grado di competenza della provincia BAT, in realtà parlo praticamente di tutte le scuole superiori di Trani, perché nonostante avessi ricevuto le assicurazioni verbali circa le avvenute sopra luoghi, quindi le verifiche di tutte le scuole di competenza della BAT e anche sembrerebbe che tutto sia in regola, ma al momento non ho ancora ricevuto nessuna attestazione da parte della provincia e questo in violazione della mia stessa ordinanza, nella quale avevo chiesto che si procedesse in tal senso. Ho fatto anche oggi pomeriggio, la 17.35, un sollecito alla provincia, tutti gli uffici provinciali, un sollecito che è rimasto assolutamente privo di risconto. Chiedevo quantomeno in assenza delle attestazioni che mi fosse richiesta una prova della mia ordinanza. Non ho ricevuto nessuna risposta, io non posso assolutamente scherzare con la salute dei nostri ragazzi, per cui anche per la giornata di domani chiudo le scuole superiori di competenza della BAT, il luogo della inadempiente BAT, ordinato ai miei uffici, agli uffici della nostra città, del comune di Trani, di eseguire i dovuti sopra luoghi e di lasciare quindi le attestazioni, cosa che avverrà nella giornata di domani, dove mai la BAT nel frattempo non dovesse rilasciare queste attestazioni, per cui venerdì spero finalmente che si possa riprendere regolarmente l'attività scolastica.